Immigrazione, senza Biure, però su una nuova piattaforma, che possa dialogare con le 5 stelle. Ma lui potrebbe fare il segretario, perché se la politica avesse metà della passione che ha lui a mettere nel suo mestiere, se la politica di sinistra avesse questa cosa, noi saremmo... Allora, ci vuole, ci vuole. Io sono interessato anche a sentire...